ciao a tutti in questo tutorial vi voglio spiegare come realizzare questo portachiavi è un modello che mi piace tantissimo perché le chiavi sono protette e quindi una volta che le metto in borsa non vanno a sfrisare a toccare le altre superfici magari del telefono del portafoglio che sono delicate quindi cosa faccio quando non ne ho bisogno stanno dentro la corolla del fiore quando invece devo aprire la porta le tiro fuori apro la porta e poi ritirando le foglioline le faccio rientrare nel fiore io ho già fatto un tutorial simile era un cappello di babbo natale mi sono trovata benissimo e quindi per la primavera l'ho voluto realizzare con un fiore quello del cappello di babbo natale comunque ve lo lascio qui sopra e nel box informazioni in maniera che se volete andarlo a vedere vi basta cliccare per tutte le tecniche che comunque vi spiego durante il video trovate sempre qui sopra e nel box informazioni tutti i link ai video dedicati ma adesso andiamo a vedere cosa ci serve per realizzarlo per iniziare abbiamo bisogno del filato io ho scelto questo che è l'iggy di tessiland è un 100 per cento cotone e in 50 grammi ci sono circa 125 metri qui consigliano gli uncinetti del due e mezzo tre e infatti io per avere una tensione piuttosto stretta utilizzo un uncinetto del due e mezzo inoltre ci servirà un ago da maglia un marcatore a lucchetto e un contagiri ma adesso iniziamo con le spiegazioni con il filato rosa avvio tre catenelle quindi uno due tre e poi vado a chiudere in cerchio con una maglia bassissima nella prima catenella che ho effettuato a questo punto faccio una catenella e poi inizio il primo giro quindi all'interno del cerchio formato da tre catenelle lavoro sei maglie basse la prima maglia bassa la evidenzio con il marcatore a lucchetto perché adesso andremo a lavorare a spirale quindi la prima l'ho fatta e proseguo entro e faccio anche la seconda entro faccio la terza entro faccio la quarta quinta e sesta a questo punto appunto inizio a lavorare a spirale quindi nel prossimo giro lavoro due maglie basse per ogni maglia sottostante tolgo il marcatore entro nella prima maglia e lavoro l'aumento quindi due maglie basse 12 chiaramente vado a marcare sempre la mia prima maglia per non sbagliare e proseguo lavorando appunto tutto il giro in questo modo due maglie basse per ogni maglia sottostante alla fine avrò 12 maglie basse nel terzo giro lavoro una maglia bassa e nella maglia successiva un aumento quindi tolgo il marcatore faccio la mia prima maglia bassa nella prima maglia sottostante rimetto il marcatore e nella maglia successiva lavoro l'aumento quindi due maglie basse 12 e proseguo lavorando una maglia bassa e un aumento prossima maglia 1 e 2 e vado avanti così fino alla fine del giro e avrò un totale di 18 maglie basse nel quarto giro lavoro tutte maglie basse quindi eseguo la mia prima maglia bassa rimetto il marcatore e vado avanti a lavorare tutte maglie basse chiaramente alla fine del giro avrò ancora 18 maglie basse nel quinto giro lavoro due maglie basse nelle prime due maglie e l'aumento nella maglia seguente quindi prima maglia sottostante una maglia bassa rimetto il marcatore poi ancora maglia successiva una maglia bassa nella terza l'aumento quindi due maglie basse nella stessa maglia sottostante quindi abbiamo detto una maglia bassa una maglia bassa e l'aumento 12 e vado avanti così fino alla fine del giro e avrò un totale di 24 maglie basse nel sesto giro lavoro ancora tutte maglie basse quindi comunque alla fine del giro avrò ancora 24 maglie basse nel settimo giro lavoro tre maglie basse nelle prime tre maglie sottostanti quindi uno rimetto il marcatore 2 e 3 e poi faccio l'aumento quindi lavoro due maglie in un'unica maglia sottostante 12 quindi abbiamo detto 123 e poi un'unica maglia sottostante l'aumento 1 e 2 maglie basse e vado avanti così fino alla fine del giro a dove avrò un totale di 30 maglie basse nell'ottavo giro lavoro tutte maglie basse quindi avrò ancora un totale di 30 maglie basse nel nono giro lavoro quattro maglie basse nelle quattro maglie sottostanti l'aumento quindi uno rimetto il mio marcatore e poi 234 e nella maglia sottostante successiva lavoro due maglie basse per l'aumento quindi ripetiamo 123 e 4 e l'aumento maglia successiva 1 e 2 e vado avanti così fino alla fine del giro dove avrò 36 maglie basse dal decimo giro in avanti proseguo lavorando tutte maglie basse sempre a spirale fino all'altezza delle mie chiavi che per me dovrebbe essere circa un 8 centimetri chiaramente voi infilate ogni tanto le vostre chiavi con l'anello mi raccomando perché anche quello ha un'altezza e verificate quando siete arrivate a coprire le vostre chiavi bene io sono arrivata all'altezza giusta quindi ho tolto il marcatore di inizio e fine giro e per appianare lo scarino dato dalla lavorazione a spirale lavoro due maglie bassissime quindi uno e due e poi inizio a creare lo smerlo diciamo così dei petali e quindi salto una maglia di base e nella seconda lavoro tre maglie alte una maglia altissima e tre maglie alte quindi tre maglie alte 1 2 3 una maglia altissima quindi getto due volte ok e poi proseguo con le ultime tre maglie alte 1 2 2 e 3 poi salto una maglia di base e nella seguente faccio una maglia bassissima ok e poi ripeto salto una maglia di base nella seguente lavoro tre maglie alte una maglia altissima tre maglie alte e vado avanti così fino alla fine del giro alla fine dell'ultimo archetto allungo l'ultima maglia che ho sull'uncinetto entro nella maglia dove in realtà dovrei chiudere con la maglia bassissima vedete entro dal retro prendo la maglia allungata e la porto nel retro in questo modo così non si vede nulla poi taglio e nascondo la codina finito il fiore iniziamo con il verde a fare le foglie e il gambo per la prima foglia avviamo 10 catenelle quindi 1 2 3 e 10 nella seconda catenella dall'uncinetto facciamo una maglia bassissima poi proseguiamo nella prossima catenella facciamo una maglia bassa poi una maglia mezza alta 3 maglie alte quindi getto 1 getto 2 e 3 e poi ancora una maglia mezza alta una maglia bassa e una maglia bassissima proprio nell'ultima catenella poi giriamo la foglia abbiamo creato appunto la prima metà e lavoriamo esattamente nella stessa maniera anche per l'altra metà della foglia quindi partiamo con nella prima catenella una maglia bassissima poi una maglia bassa una maglia mezza alta tre maglie alte una maglia mezza alta una maglia bassa e una maglia bassissima finita la prima foglia lavoro una catenella alta il doppio dell'altezza del fiore più 10 maglie perché in quelle 10 maglie rifaremo esattamente la foglia che abbiamo appena finito ho lavorato appunto una catenella lunga il doppio dell'altezza del fiore più 10 maglie proprio perché anche da questa parte adesso andiamo a fare la stessa fogliolina quindi la seconda catenella dall'uncinetto entro e lavoro una maglia bassissima poi lavoro una maglia bassa poi una maglia mezza alta tre maglie alte una maglia mezza alta una maglia bassa e una maglia bassissima giro come ho fatto qua e lavoro esattamente nella stessa maniera fatta anche la seconda fogliolina ok nascondo le codine e poi andiamo a completare il nostro portachiavi una volta che abbiamo finito tutti i pezzi entriamo con l'uncinetto nel centro del fiore da dove abbiamo iniziato a lavorare prendiamo il nostro gambo diciamo così e lo facciamo passare facendo un po' diciamo così di sforzo perché non passa benissimo proprio perché il buco è piccolo ecco lo facciamo passare vedete dall'altra parte in questo modo poi prendiamo le chiavi qui lo possiamo ribaltare per lavorare meglio prendiamo le chiavi e per attaccarle anziché far passare la nostra catenella nell'anello possiamo fare così infiliamo l'anello in questo modo e portiamo fuori le chiavi quindi facciamo un piccolo cappio non saprei come chiamarlo però che trattiene praticamente l'anello senza doverlo aprire e farlo passare tutto in questo modo possiamo tirarle via quando dobbiamo cambiare il nostro portachiavi tirando chiaramente le foglioline le chiavi rimarranno nascoste io lo lascerò così doppio perché mi piace è carino se voi volete potete dare un punto e unire così le due foglioline vedete come come più vi piace oppure magari fate un nodino qui insomma potete fare come meglio credete bene per oggi è tutto se questo video vi è piaciuto mettetemi un like e non dimenticate di iscrivervi cliccando qui sotto iscriviti e la campanella e noi ci vediamo alla prossima ciao